Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha fatto il punto sulla cattura o abbattimento delle cosiddette vacche sacre nel territorio della Piana di Gioia Tauro, a partire dall'inizio dell'anno. Secondo i dati della prefettura di Reggio, dal 1 gennaio fino al 9 agosto 2018, sono stati eseguiti nei territori di Cittanova, Molocchio, Taurianova, Polistena e Terranova, Sappo, Minulio, 37 servizi interforze, finalizzati alla cattura dei bovini vaganti. Sono stati catturati e sottoposti a controllo sanitario 183 bovini, per i quali i sindaci competenti hanno dovuto emettere ordinanza di abbattimento, in prevalenza tori al fine di interrompere i cicli riproduttivi. Il prefetto di Bari ha ricordato inoltre che presso la questura di Reggio Calabria si è insediato un gruppo tecnico interforze partecipato anche dai sindaci dei comuni interessati e deputato al coordinamento tecnico delle attività programmate. Queste attività di controllo interforze del territorio in funzione preventiva e di vigilanza si è concretizzata anche con accertamenti nei confronti delle aziende zootecniche e degli impianti di allevamento, mirate ad operazioni di individuazione, narcotizzazione e cattura dei bovini, nonché di profilassi sanitari e di sicurezza della filiera agroalimentare, mediante l'impiego di unità composte oltre che da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, anche da personale della Polizia Metropolitana, del Dipartimento Veterinario dell'ASP di Reggio Calabria e con il contributo dell'ente Parco Nazionale dell'ASPromonte. Si sono tenute riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Città Nova, durante le quali sono state evidenziate le competenze dei sindaci in materia di tutela della pubblica incolumità, richiamando la necessità dell'adozione da parte dei medesimi dei previsti ordinamenti.